Musica Bella a tutti ragazzi sono Rick e benvenuti in questo mio nuovo video Oggi siamo qua insieme a Norino 1999 PewDiePie E oggi siamo qua sullo speciale di Halloween I zombie ragazzi Non so se questo video uscirà veramente troppo troppo lungo Vabbè comunque sarà senza tagli Quindi come uscirà uscirà E sti cazzi iniziamo subito vai Vai Norino adesso spacchiamo il culo Ragazzi Norino è conosciuto anche come PewDiePie PewDiePie Sì eccomi Non ti senti Ragazzi vai Speriamo di fare una bella partita E che non abbiamo così tanta sfiga come sempre Perché ragazzi abbiamo veramente troppa troppa sfiga Per trovare la cazzo di pistoletta aliena 20 anni ci mettiamo Giusto o no? Porca puttana Vabbè che questo qua Certe volte lo trova la prima bot Che quando gli passa qua Questo è Diventa Diventa pazzo Ok la connessione sembra buona Tre tacche Perché ho Cercato di registrare questo video anche Prima Questo lo sto registrando venerdì Ora muori Sto registrando venerdì E quindi non so ragazzi Come uscire da Cosa succederà E Sti cazzi E iniziamo Sperchiamo di fare una partita bella Di non fare la partita Una partita di merda Io sento spaccare roba Ma dove? Spaccare tutto Dove? Dove? Per dio Non sento nessuno Dove stanno questi? Ti posso segnalare Per Linguaggio Inapposciato? Vaffanculo va Oh E Muori 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 A post Vai raga What the fuck? No Devo aggiustare una finestra Vengo 10 minuti Eh ragazzi Abbassiamo un po' La musica Generale Non vorrei che dopo Non si sente Il nostro amichetto Dove cazzo sta? Per dio Grazie Eccolo là Oh Sting a morire Dove sta la La nostra cassa La cassa Ah ma sta là Ma Dimmelo no Non so ragazzi Che ci potrà uscire Ma Io spero che Adesso Bello Mi giro Mi giro Dimmi tu Dimmi tu Dimmi tu Dimmi tu Kevin Ma vuoi diffondere ai tuoi iscritti La preghiera Ma no Mi dispiace ragazzi Quando arriveremo a 600 iscritti Ve la svellerò la mia preghiera In dialetto abruzzese Quindi ragazzi Per chi non lo sapesse Io sono abruzzese Abruzzese puro Quindi Ma che cazzo sta Oh Ettore E' rotto E' rotto E' il cavolo Vale Fidi Pai Vattene Ragazzi doveva essere Questo video doveva Dovevano starci Tutti i membri Del nostro clan Ma purtroppo Questa sera Hanno avuto da fare E' Danilo mi sta invitando un gioco Me ne lasci uno solo me ne serve 100 punti mi servono Ti prego Per Dio Munizia Ci faccio Che le munizioni Non c'ho niente Non c'ho Servono 10 fottuti Soldi 10 Ne chiedo tanti Tanto ragazzi Io lo so Io lo so che moriamo Ragazzi Lo so che moriamo Gima la cosa Vaccia a Kenna La fa la tosse Ok ho fatto Ho fatto Ho fatto Ho fatto La fa la tosse Dai per Dio Non muore Non muore Padre nostro qua Vai 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 Non muore Pascia Pronto Oddio Dio Dio Senza guardare Ragazzi Senza guardare Bello Il pazuka Bello Mi piace Ragazzi Mi piace Mi piace Tantissimo Fatevi sotto Dai che io Con il pazuka Non ho paura Di voi Non ho paura Di voi Fatevi sotto All'istante Chiappalo Chiappalo Ok raga A forza Perché mi stanno Chiamando Mentre sto Registrando Ragazzi Sta chiamando Tantag Per chi non sapesse Chi è Tantag E lui In descrizione Passateci Su canale Che è Aperto da poco Però Comunque Fa video Molto Cioè Originali E mi piace Veramente Tanto Qua in tanto Già spawnano Io spacco il culo Tantissimo Con questo mio Bazzucone Dove Ecco Spariti 20 anni Per spawnare Non si sa Dove spawnano Bello che io Non c'ho niente C'ho solo sto Bazzuca Del cazzo Come faccio Spiegamelo tu Spiegamelo tu Spiegamelo Spiegamelo Tu Tu Lola Ok Mi suicidavo Alpami 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 Aiuto 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 Proteggimi Proteggimi Dai 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 Proteggimi Non giochiamo Ho paura Mi stacchiamo Mi stacchiamo Mi stacchiamo Basta Mi stacchiamo Ma dai un messaggio Che stiamo Arregistrato A favore Purtroppo La razza Ma che stas Sei morto Sì La fine Mi so discierto Per non vedere Tantag Cazzo S'hai fatta a morire Stavo a vedere La chiamata Di Tantag Ma c'è qualche arma Buona Oddio Fammi di salvare Fammi di salvare No 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 Mi lasciare Amore mio Ti amo Afferra la mia mano Bellissima canzone Ma che cosa vuole Tantag Cosa vuole Mi ha mandato Mi ha mandato 8 messaggi Mi ha mandato Vabbè dai raga Andiamo qua Vabbè anche se Quest'arma è ottima Questa Super carabina Cosa E vai La bambola Ehi Veramente Molta fortuna In questo Oggi Comunque Che offro io Perciò più soldi No 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 Non la pia Adesso Io sto bene Adesso 8 fino a Io no Mi arriva A 7.50 In più E ti apro Vai Vai Fatevi sotto Basta Rispondi Rispondi No no Metti via voce Metti via voce Rispondigli Ah Non ce lo sto Eh purtroppo Raga Ha la ps3 Ma non ha Non ha Black ops 2 Non ha niente E' povero Ragazzi Dovete sapere Che lui è povero Può permettere Niente Capito E vi informo Che comunque Questa settimana Come saprete Tutti quanti Uscirà Quello che tutti Stiamo aspettando Quello che Drick Sta aspettando Più di voi Più di tutti quanti Cazzo Basta Vai Dai 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 Fiscia Apra Ragazzi Escilo 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 Oh my god Stiamo spaunando Persone Che te uscì Olè No Guarda Si può Si può Spiegatelo Si può Bello Non mi è uscito Niente Ragazzi Ha un culo Della madonna Questo ragazzo All'istante Spera che comunque Questo speciale zombie vi piaccia No per 2 sta là sopra No 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 Sopra dove sta il juggernaut E' bello No Non è pure la cazzo Vuoi che tengono Le match E' bello Non è proprio la cazzo E' veramente potente Siamo partite Da round 20 Come è Nella Bello Il parrette Anche se non serve A niente Anche se ho passato Inere giornate A giocare Bella Vai mo La pistola Vai Vai Madonna quanta gente Qua sotto Colpi Finiti i colpi Vai Esplodete Esplodete Io ho il bar Colpi Non c'ho i colpi Ok 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 Ci sta lo zoppo Il zoppo Ci sta il zoppo Il zoppo E' veramente velocissimo Lascialo lì Lascialo lì Lascialo Diverti Un po' Distrailo Che ho detto Per dio Distrailo Eh ne erano due L'altro Mi ha spaventato Lo c'è Modifica la M1911 Che è veramente potente Quelle super Grana Tozze Quelle tozze Guarda un intero Caricolato Eh Andiamo a comprare Andiamo a Coprimi Coprimi Che c'è la pistola Aliena Mentre Sto Comprando Norino Ragazzi In meno di Una settimana Due settimane L'ho fatto Proprio Un'altra volta Il fall Ma che cazzo E Ma io non lo so E muori Norino Ti ammazzo la testa La gente Ma facciamo lì Che c'ho la pistoletta Divina Gente Non mi uscirà mai In tutta la mia vita La pistoletta Aliena Dica aspetta Per Dio Perché l'hai preso subito Grazie Prima dell'uscita Di Black Ops 3 Forse Stasettimana Uscirà Il video Zombie Su Black Ops 1 Bravo Prendilo 390 Vai Vai Fammi comprare Cosa vuoi tu C'hai tutto Eeeh Bello questo Sì Lo so Lo so Non inizio a shottare più Che cosa Spiegami cosa Si è iniziato adesso Per Dio No Non lo so Ragazzi Il gioco è matto Come gli passa Capito Come puoi trovare la bamboletta In Nel primo Secondo Come la puoi trovare Nel Ogni Dopo che prendi Tre armi Non lo so Vai Ehi Vai Ci siamo Ci siamo Madonna Quanta gente Quanta gente E' finito i colpi No Ce l'ho Ma devo Ricaricare Facciamoli accumulare E poi Sfondiamo tutti Dai per Dio Gente No 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 Ormai si è rassegnato Faremmo un video insieme ragazzi Con Taddaq Sarà epico Perché lui Fa sempre video epici Non so ragazzi Tu dovete passare Per forza Sul suo canale Mette video Quasi ogni giorno Sì Adesso ci sta divertendo Speriamo che Comunque Non Continui Con i suoi video E' sempre costante Per adesso Non so ragazzi E' 4 o 5 giorni Che Che porta video Sul suo canale Principalmente Vlog Altre cose Dai su LOL LOL Farai un duro League of Legends E' fortissimo ragazzi Quindi Quando cambierà PC PC su Cosa ci faccio Per Dio Cosa vuoi da me La chi vuole un po' Il cazzo Lasciameli Lasciameli A posto Vai mo Tutti morti Dammi i soldi Re Kaboom Veloce Ok Cosa ti manca Ok Non lo metto Bello il Kalil Ai 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 Galil Ragazzi Galil Quando Arriva il Kalil E' la fine Di tutto Basta A usare Questa pistoletta Non a sprecare Inutilmente Ma non Uno round Vabbè Non arroscare Che c'è Bello il problema Io non ce l'ho Trent'anni Che provo A trovare una Una Porca puttana Che me ne lasci Tipo due Di numero Per Oh No Ne ho solo Uno davanti Oh Che meglio Era l'ultimo Stato Non posso aggiustare Niente Io devo comprare Ho bisogno Della pistoletta aliena Ragazzi Dobbiamo potenziare Dobbiamo potenziare Tutto La Gancia M 1911 Perché Senza di quella Ragazzi Non C'ha Spawnano Comunque c'ha Una Olè RPD E' un culo C'ha Un culo Perché non ti lascia La pistoletta iniziale Eh si Ormai c'ho In cui c'ho Questa La pistoletta Cavolo Ti prendi Quella più Quell'altra E ammazzicola Tutti E' la fine E' la fine Per due No 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 Opp Ehi Drink No Oddio Mi ci viene Da piangere Cazzo Non mi impaccia Per dio Vabbè Oh Norino Proviamo Un attimo A livello 20 E poi Dai Ci salutiamo Qui Livello 20 Facile Allora Il mio record Io ci sono riuscito Quindi Prima io Stai prendendo In giro Cosa E' solo Ti porto La soluzione Dopo Tranquillo Ce l'ho Io qua Grandissimo Fabio Rifibra Dai Green run Dai su Veloce Veloce Dai Buco che pepetta Ti aspetta Se ne muove No La fine La fine Ti muove Ti muove No Non mi fa Non mi fa La protezione Ti muove Ti muove Ti muove No no aspetta Mi sei buggato Mi muovere Veloce Levati Proteggimi 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 Ok Ok Ecco davanti Aiuto Questo Porco schifo Eccolo Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ci sono Ci sono Arrivo 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 Sto morto Raga ho paura Nel mio corpo Paura Tanta paura Tanta paura Oh Siamo morti Ma che ci hai fatto Ho sbagliato Perché non mi si era buggato Non mi faceva potenziare A me no Hai visto che sono stato 5 minuti La fermo Mi faceva clicca Comunque vi informo Che anche Norino Inizierà a portare Inizierà a portare Inizierà a portare video Su Youtube Però ragazzi Non mi spoilerò Quando Non mi spoilerò Cosa farà Cosa non farà Eh Dai Cish Eh Ma poi Ragazzi Se il video vi è piaciuto Invito a lasciare un bel pollicione in su Condividere il video Mostrare i vostri amici E Qui da Trick è tutto Spero che questo video allo Mi sia piaciuto E ci rivediamo Nel prossimo video Bella 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 Grazie.